oggi vi voglio mostrare una colla alternativa alla solita coda da cavallo che conosciamo tutti quindi come sempre procediamo col pettinare i nostri capelli facciamo questa coda la facciamo un po' più in basso di quelle dell'artezza e comunque vorremmo dopodiché andremo semplicemente ad allargare questa parte superiore della coda e andremo a mettere all'interno questa parte che usciva quindi mettiamo un po' ed è questo il risultato che comunque otteniamo quindi una coda molto diversa da solito non so se riuscite a vederla bene e comunque è più particolare della solita coda quindi spero vi sia piaciuto questa è una coda semplicissima da fare che potete utilizzare comunque tutti i giorni sia per andare al lavoro o per andare a scuola ma volendo con gli accessori giusti potete anche comunque utilizzarla per andare da qualche parte diciamo più elegante quella qualche cerimonia volendo quindi spero vi sia piaciuto fatemelo sapere ci vediamo al prossimo video grazie